buongiorno buona gente questo cordiale saluto vi giunge dagli studi di etv per la nostra vostra rassegna stampa giorni belli giorni tiepidi ecco il meteo subito a raccontarvi quello che possiamo aspettarci la novembrata in arrivo con caldo anomalo e nebbie ottobre caldo come fine agosto pensate ora ci attende la novembrata il punto del sito abbiamo tante notizie anche legate al nostro sito etv marche punto it per esempio la storia bella da monte cassiano ettore e il suo gol alla sindrome di down una storia che vi farò ascoltare tra poco molto toccante poi per chi ci segue già da un po di minuti il tris di torrette miglior ospedale d'italia apriti cielo tanti hanno commentato anche negativamente dalla luce del fatto che i problemi ci sono le liste d'attesa che vanno assolutamente risolte ma insomma un conto è parlare di un ospedale un conto invece afferire al sistema sanitario più in generale si è parlato anche di cantiere salesi con la prospettiva 2026 tante notizie come sempre io parto da una summa da una sintesi delle notizie principali facendo un rapido giro tra le notizie più gettonate certamente c'è quella del terremoto con la quale notizia iniziamo il percorso una notizia per ogni provincia terremoto di magnitudo 3.7 nell'adriatico c'è anche chi da senigallia dall'anconetano ci ha scritto l'ho sentito un rombo di tuono tremava tutto quando si è verificato alle 17 e 48 di ieri registrata davanti alla costa fanese con epicentro a 25 chilometri di profondità fortunatamente e chiaramente non si segnalano danni a cose o persone dalla provincia di pesaro urbino a quella di ancona e allora jesi rissa tra due gruppi di ragazzi al campo boario giovane picchiato a sangue c'è un'immagine anche molto dura che vedete pubblicata all'area coperta del campo boario dietro la scuola federico secondo che è diventato un ring dalla zona di ascoli parliamo di pesce quindi san benedetto pesce proveniente dal senegal sequestrati 300 chili di pescato a san benedetto multe per 18 mila euro anche qui mi è arrivata anche una richiesta poco fa come si fa a prendere il pesce giusto a non farsi fregare eccetera il mio consiglio è andare a recuperare quel pesce laddove siamo abituati a comperarlo il pesci vendolo di fiducia tendenzialmente siccome vi serve danni non vi tira una fregatura o non vi dovrebbe tirare una fregatura per il fermano il lutto è morto il giornalista mauro nucci si faceva voler bene ci mancherà per il maceratese da treia i telefoni non funzionano siamo pronti a denunciare il gestore il sindaco capponi chiede interventi per risolvere il problema i giornali ma anche i vostri messaggi è questo l'ingrediente principale del buondì buongiorno da davide hai sentito la scossa ieri onestamente no più che altro nella zona di senigallia fano marotta pesaro è stato sentito questo fenomeno sismico io vi faccio rivedere anche la cartina del terremoto eccola qua buongiorno sono un carabiniere in pensione concordo con te che ormai per strada non c'è un giorno che non si rischi un incidente un litigio manca educazione stradale civica e forse servirebbe uno psicoterapeuta visto che quando si sale in auto escono fuori tutte le nostre frustrazioni a scriverci con tra l'altro quindi competenza è un carabiniere in pensione io mi permetto di ringraziarti per il servizio che hai svolto per tutta una tua vita e quindi ti siamo riconoscenti anche per questo oltre che per il tuo pensiero grazie caro carlo maurizio durante la pubblicità ti tocca pulire a tutti sei accorto o ti sei accorta sì ho aperto la bocciona qua dell'acqua è venuto fuori un disastro saluto gli spurs che sono la squadra inglese per cui tengo insieme al mio gigetto è partito uno sghizzo neanche fosse stato il gran premio di formula 1 è andata così andiamo ai giornali ancora per la questione torrette vi ricordo la notizia di ieri ospedale migliore d'italia ma come non funziona niente le bugie eccetera non si tratta di bugie sono dati agenas statistiche riferite all'ospedale nello specifico non si parla di funzionamento del sistema sanitario marchigiano lì problemi ci sono e lo sappiamo recanati shock sassi amiche amici di recanati e non solo lanciati dal belvedere del pincio colpita un'auto con a bordo un bimbo il folle gesto di alcuni ragazzini paura per mamma e figlio vicino al colle dell'infinito poco fa saverio commentava questa notizia con noi leo suicida a 15 anni torniamo sulla vicenda perché perché i prof della scuola del panzini a colloquio con gli psicologi pare facciano emergere che nessuno si fosse accorto degli atti di bullismo ora sapete che io sono cerco di essere sempre onesto intellettualmente accorgersi significa una cosa che non ti arriva diretta e tu puoi vedere notare capire intuire un altro conto invece in questa vicenda è il fatto che stando a quanto avesse raccontato il povero leo quindi per rispetto di un ragazzo che non c'è più e stando a quanto emerge da alcuni messaggi scambiati con la mamma lui a un professore o a alcuni professori comunque lui ne aveva parlato a qualcuno a scuola lo aveva detto quindi rispettiamo anche questo ragazzo che non c'è più per cortesia andiamo ai giornali va che è meglio le edizioni del carlino riparto dall'edizione per ancona e provincia ma tanto le leggiamo tutte come sapete di cosa parla in primo piano il carlino dorico tra l'altro per l'amico che mi diceva poco fa di pulire il bagnato del getto d'acqua è finito tutto sulla tastiera per un po' non funzionava neanche il computer torrette miglior ospedale adesso tutto a posto torrette miglior ospedale d'italia eccolo anche qua la genas premia per la terza volta consecutiva l'azienda anconetana un grazie ai nostri sanitari slogan nazi fascisti in terza media sembra più una bravata a quell'età non c'è maturità politica questa la reazione della dirigente scolastica dopo il caso che si è verificata ad ancona di un video shock nel quale si vede un ragazzino delle medie inneggiare appunto al nazismo nuovo salesi giù la storica torre abbattuto l'ultimo pezzo di archeologia sanitaria come dice il giornale poi il via alla creazione dei parcheggi e il nuovo salesi dal 2026 luminaria show al viale e succorso carlo alberto verso il natale altre indiscrezioni dell'assessore elia antonio e poi pensionati corteo per mille qui anche per i giovani la protesta contro gli aumenti beffa quei famosi aumenti di 3 euro 4 euro 5 euro c'eravamo anche noi in piazza voglio farvela sentire io sono un buon pensionato però penso ancora quegli altri che stanno sulla scala mia attorno a me torna il paese che gli hanno dato 3 euro e 10 al mesi 10 centesimi al giorno e questa è la realtà una realtà beffa denuncia un cittadino quella di un aumento delle pensioni minime ma che non soddisfa affatto le esigenze degli anziani dopo la manovra del governo meloni e così oggi 29 ottobre il sindacato spi cgl ha chiesto di rivalutare quelle pensioni che nelle marche sono tra le più bassi d'italia e oltre il 50 per cento ed importo inferiore alla soglia di povertà un corteo da piazza cavur a piazza del plebiscito ancona per invocare anche una sanità pubblica e un fisco più efficiente questo lo sfogo dei pensionati sapete che quando c'è chi si mette in strada in piazza noi lo ascolteremo buongiorno purtroppo a macerata in questi giorni ci sono problemi con la telefonia mobile e le persone giustamente si lamentano però si lamentano anche per l'installazione di nuove antenne quindi delle due l'una grazie per lo sfogo il riferimento è a questa notizia che trovate in taglio alto corriere lo sfogo di capponi i telefoni non funzionano pronti a denunciare gestori a treia il sindaco capponi chiede interventi per risolvere il problema o pronta dopo l'edizione del carlino per ancona e provincia quella per macerata e provincia stallo sull'acqua arriva la stangata i sindaci non si mettono d'accordo sul nuovo gestore ma approvano intanto aumenti del 15,8 per cento in due anni aumenterà dunque la tari a macerata aumenterà anche la bolletta dell'acqua attenzione attenzione facciamo bene di conto per quanto concerne la questione invece della provincia di fermo e di ascoli abbiamo detto anche ieri che non ci saranno aumenti questa la decisione della chip che è il gestore dell'acqua in quei territori coltellata al compagno siamo a santa maria apparente dopo il litigio in casa notte di follia a civita nova marche la foto news però è dedicata a camerino locazioni senza contratto maxi evasione e nove denunce scacco ai furbetti degli affitti la guardia di finanza di camerino ha ricostruito un giro d'affari da 80 mila euro la cronaca da recanati schianto all'incrocio grave un ragazzino ecco vedete anche la foto dell'incidente poi porto recanati croce bianca azzurra rinviato lo sfratto dopo anche le proteste dei residenti buongiorno una domanda ma chi prende la minima ha mai versato i contributi punto di domanda allora la minima non necessariamente hai versato per tutta la vita ma una buona parte della vita certamente i contributi li hai li hai versati al di là di questo gli aumenti di 3 euro l'anno sono veramente un 3 euro al mese sono veramente una presa in giro dai su buongiorno ad ancona parcheggio degli archi telepass non funziona sono quattro mesi che c'è il cartello questo l'abbiamo ricevuto però anche ieri e ieri l'abbiamo letto buona giornata maurizio da paolo che cosa combina paolo la peppa guardate un po che caccia alifunghi dell'amico paolo sembrano dei piccoli ufo parcheggiati quelli che trovate in questi giorni di grande umidità certamente proliferano gli amici funghi grazie paolo mi raccomando prendi quelli buoni non quelli un po così 349 39 18 169 dopo ti viene il mal di pancia ma mi pare che paolo sia piuttosto esperto allora scrivo ingv istituto nazionale di geofisica e tecnologia perché perché oltre alla scossa di terremoto che abbiamo raccontato di ieri pomeriggio alle 17 e 48 ce ne sarebbe eccola qua ce ne sarebbe stata un'altra mi hanno chiesto se ce ne sia stata un'altra sempre attorno alla rezzone marche questa notte verso le 4 le 5 del mattino in realtà secondo la lista dell'ingv no non c'è stato un fenomeno sismico l'ultimo in ordine di tempo sulle marche è questo qua costa marchigiana magnitudo 3.7 profondità di 25 chilometri e proprio questa profondità e il fatto che si sia verificato in mare ha fatto sì che pochi l'abbiano percepito dorotea buongiorno patrizia buongiorno giorgio buongiorno silvana buongiorno patrizia che in particolare commenta la notizia di torrette sarà un po esagerato questo elogio per torrette non si tratta di elogi si tratta di dati statistici che agenas che è un'agenzia nazionale ha fatto parametrando tutti gli ospedali italiani secondo determinati criteri è venuto fuori che l'ospedale di torrette per il terzo anno di fila sia il migliore io lo so che in realtà la percezione sulla pelle dei nostri amici utenti sia spesso differente però questo è il quadro è una agenzia nazionale che ha fatto uno studio sul lavoro a torrette credo che meriti un plauso chi lavora oggi più che mai a torrette consorzio e siamo a pesaro arceci resta presidente dopo l'avviso di garanzia per corruzione sul caso degli affidi a pesaro era pronta di mettersi l'ex braccio destro di matteo ricci però non molla abbiamo 31 partite davanti a proposito di partite qui invece si parla di calcio davvero vis da favola il sogno continua i biancorossi infilzano il gubbio con tre reti e portano a casa punti d'oro taglio alto porto addio a don valentino storico parrico per 42 anni il basket era la sua passione quasi centenario fu tra i fondatori della delfino una squadra celeberrima lavori pubblici il punto con l'assessore il san domenico va il ponte invece è in netto ritardo vado pronto tra poco ad ascoli e fermo prima però ripasso dalle vostre parti dove siamo a qui la sfida è aperta vediamo un po grazie per questa foto che è di jonathan taddei se non erro allora la foto di un paese meraviglioso della regione marche io direi direi sarnano la butto là sarnano se sbaglio sono pronto a fare ammenda però messa così a vicinanza con le montagne le due torri vicine io a sarnano sono stato davvero tanti anni a far le terme dovrei non sbagliarmi dai dico con buona probabilità sarnano e grazie a chi mi ha fatto passare questo minuto di panico per la paura di non indovinare grazie anche da paola che ci segue da montemarciano e poi come è caduto in basso il giornalismo il vigile ha avuto 30 giorni di lesioni non era più corretto scrivere il vigile ha avuto 30 giorni di prognosi grazie non so però a quale articolo tu afferisca grazie per il tema del giornalismo sì in effetti stiamo vivendo un momento un po complesso c'è una tendenza a ribasso un po in tutte le categorie la mia compresa assolutamente capisco andiamo ad ascoli e provincia ora col carlino sisma ora acceleriamo questo dice franchi otto anni fa la scossa più potente dopo l'irpina a livello nazionale e tanta tanta distruzione il sindaco di arcuata conferma non molliamo ascoli e le olive invece sul grande schermo una storia che aveva anche fatto discutere ad ascoli sul set del film era comparso un cartello in piazza del popolo con appunto una azienda non marchigiana di origini cinesi che facesse le olive alla scolana apriti cielo polemica non finire ma era una facezia era un film una scena del film prodotto dalla nievie con l'assaggio dell'oliva fritta nella pellicola recitano anche molti attori principianti della zona in anteprima la proiezione di superbi la storia di un ipotetico negozio di cinesi che vende tipicità l'accusa a mozzano ponte romano abbandonato italia nostra si appella alle istituzioni è fondamentale intervenire sulla sicurezza del ponte romano e poi vi porto al fermano così davvero le lette tutte ma prima un punto sul meteo perché abbiamo accennato al fatto che oggi sarà una bella giornata però le temperature però qualche gocceriella di pioggia allora intanto in mattinata freschino è temperature che sono state anche piuttosto fresche alle prime luci del giorno a metà giornata arriveremo sui 20 21 gradi giovedì 31 la sera poi il pomeriggio la sera si festeggia dolcetto e scherzetto si gioca così stessa situazione rispetto alla giornata di oggi quasi identico per il weekend visto che c'è chi farà ponte anche alcune realtà istituzionali faranno ponte uguale sabato 2 forse un po più fresco il punto medio ma delle minime le massime comunque resteranno sui 20 gradi domenica 3 e così veramente abbiamo anche sfidato la sorda perché ci spostiamo verso lì di sconosciuti o quasi temperature massime in netto calo e anche di 4 5 gradi le minime restano stazionali quindi farà meno tiepidino domenica 3 completo i giornali il carlino con l'edizione di fermo così davvero le abbiamo toccate tutte le province sapete che ci tengo allarme allergie e il caldo non aiuta maria luisa camplese studia le particelle naturali ora facciamo i conti col cambiamento climatico è morto invece in taglio alto mauro nucci ha raccontato per mezzo secolo la sua città e la fermana giornalista del carlino speaker radiofonico condoglianza anche da parte di tv i diamanti dei sibillini torna la manifestazione dedicata al tartufo bianco pregiato una festa eccellente due weekend tutti da gustare ad amandola tra tv vip e chef stellati prodotto di qualità ma la siccità ha fatto alzare i prezzi questo dice il giornale anello ciclabile siamo a fermo e quindi da qui a porto sant'elpidio anello ciclabile c'è l'ok al mutuo da 400 mila euro il sindaco ciarpella più che soddisfatto la nostra richiesta è andata a buon fine ultima news dal fermano bullizzometro l'amministrazione scende in campo con le scuole siamo a monte giorgio cosa significa bullizzometro significa certamente fare più attenzione condividere le informazioni sulla sulla piaga del terzo millennio ancora news legate ai vostri messaggi 3 4 9 3 9 1 8 1 6 9 richieste sulla terremoto ne abbiamo parlato è stato un fenomeno fortunatamente molto limitato e sulla mare ora a corinaldo 15 gradi freschetto buongiorno da luciana grazie cara luciana buongiorno viva le marche e i suoi derivati dalla gozilla family marche i suoi derivati è bellissima questa foto viene dalla zona di san benedetto del tronto dove torno tra un secondo attraverso le edizioni del carlino fatte manca allora il corriere un altro giro di news ma prima ci tengo particolarmente a leggere con voi la storia e ad ascoltare la storia di questo ragazzo da monte cassiano ettore e il suo gol alla sindrome di down una storia che abbiamo raccontato grazie al nostro giacomo giampieri quanto sei contento te di giocare a calcio è una bella emozione giocare con tuo fratello e con tutti gli altri sì lui è ettore bartoloni 16 anni dare canati una passione sfrenata per il pallone nel suo mondo la barriera è quella della sindrome di down che però aggira con un delizioso mancino e soprattutto grazie all'amore all'altruismo dei familiari mamma astra papa giacomo e il fratellino nicolò 13 anni compagno di squadra per ettore sono una spalla destra questioni ogni volta ogni volta che prima di una partita l'aiutavo sempre con allenarlo oppure facendo fare qualche giro di campo come se fosse il suo allenatore personale e lui gioca molto bene a calcio e come posso dire è un fenomeno per me ettore gioca a monte cassiano nella categoria giovanissimi questo grazie ad una deroga speciale arrivata dalla figici di roma per disputare le partite con i più piccoli e grazie al lavoro del coordinatore regionale del settore giovanile scolastico marchigiano floriano marziali esponda arbitri di gilberto sacchi un unicum a livello nazionale domenica 27 ottobre l'esordio in campionato è un'emozione lui è un'emozione continua per tutto ciò che fa quando lo vediamo felice per noi è già un traguardo negli allenamenti ettore una forza della natura l'impegno che mette è lezione per tutti è molto contagioso per per tutti gli altri da sempre lo hanno considerato uno di loro e questa forza è la più grande lezione che i ragazzi possono fare a noi a noi adulti studia da musicista al liceo rinaldini di ancona per la madre è un fenomeno alla batteria ma il suo esempio in campo che può aiutare tanti altri in italia non tanto solo per noi ma anche per chi verrà dopo che vorrà fare un passo del genere già aver aperto la strada per qualcun altro ci fa sentire benissimo e questo è importante sono che arriva a braccio che da o riceve al monte cassiano calcio ettore è di casa lautaro martinez è il tuo calciatore preferito si è bella la vita siamo e che squadra tifi quindi l'inter fu l'inter e anche un po il monte cassiano però e si poteca siano e beh ogni tanto un servizio così una storia così ci vuole ci vuole davvero complimenti a questa famiglia a questo ragazzo soprattutto chiaramente ma anche alla società sportiva che dimostra ancora una volta come il calcio possa essere davvero uno strumento quando usato bene di integrazione una storia davvero meravigliosa come meravigliosa è questa immagine che dedichiamo a Ettore a tutte e tutti coloro che ci stanno seguendo pronte le edizioni locali dopo il Carlino del Corriere anche qui velocemente per salutarci passa il piano delle scuole la provincia respinge la richiesta di Bocchicchio Villa Sant'Antonio rimarrà con Ascoli la fotonews la trovate uguale su tutte le edizioni locali la sfida centrodestra centrosinistra nelle marche il centrosinistra che dice ci vuole il bypass i soldi sono già pronti centrodestra di governo che risponde no puntiamo sull'alta velocità ci vorranno comunque vent'anni per averla dalla zona di Ascoli fateci sapere cosa ne pensiate a quella di Ancona cala il Tris Torrette perché curi al top Torrette per il terzo anno di fila miglior ospedale italiano su questo abbiamo ricevuto anche tanti messaggi di critica ma si tratta di un dato proposto da un'agenzia nazionale indipendente quale Agenas occhi puntati anche sulla crisi politica di Osimo Pirani Latini si tratta ma lo stallo è totale dalla zona di Ancona quella di Fermo raffica ancora di notizie per completare un po' il percorso ex betti iniziano i lavori scattano i divieti nella zona in arrivo l'allestimento del cantiere per il restyling e poi Fermo ancora dove è morto Mauro Nucci giornalismo in lutto si faceva volere bene dal Fermano al Maceratese in primo piano oltre al tema legato al bypass ferroviario le bollette più care per l'acqua lo avevamo anticipato ieri rincari di oltre il 15 per cento in due anni spaccatura dei sindaci all'assemblea del lato i sindacati annunciano azioni di protesta tra le altre news sempre da macerata lite al parcheggio giovane aggredisce una vigile urbano ed è anche per questo che c'è un corso di autodifesa che stanno facendo i vigili urbani del maceratese ci ha scritto poco fa un carabiniere in pensione dire è vero la situazione davvero di rabbia per le strade nella quotidianità è diventata insostenibile su tanti fronti chiudo con il pesarese tesoretto contro i danni del maltempo stornati dalla variazione di bilancio 230 mila euro amiche amici di pesaro per riparare alle urgenze ai danni provocati dall'ultima ondata di maltempo l'inchiesta sugli affidi da giorni ci chiedete ma Ricci non dice nulla sulla vicenda Ricci rompe il silenzio e dice la verità verrà a galla notizia che trovate anche più forte sull'edizione online gli indagati sono ottimi funzionari mi sono sempre fidato di loro per la gestione degli appalti così la questione da pesaro a fidopoli che è diventata anche una questione politica mi devo fermare se avete piacere a tra poco state con noi ottica leonardo presente ad ancona da 30 anni è il sinonimo di accoglienza e professionalità montatore delle marche più prestigiosi personale qualificato ed esperto nella visione a tua disposizione e laboratorio interno